A Venafro, in una tranquilla traversa nei pressi del torrente Rava, che a pochi metri da lì scorre pacioso, appena imboccata c'è una casa in costruzione. Dalla notte della vigilia di Natale le bianche pareti esterne hanno cambiato colore, sono imbrattate di rosso. Un atto vandalico, ma ci dice il proprietario, potrebbe trattarsi anche di qualcos'altro, di qualcosa di più grave. La vernice, ci dice Pietro, che quella casa ha iniziato a costruirla anni fa con le sue mani, sembra essere stata sparata con una pistola a spruzzo ad alta pressione. È arrivata a deturpare le imposte, la grondaia e fin sulle tegole. Pietro non si dà pace, architetto e docente in pensione, fino al 2010 sindaco di Conca Casale, comune montano a 10 chilometri da lì. Dai carabinieri a sporto denuncia contro i gnoti, ma una prima indagine l'ha condotta pure lui. Probabilmente è passato di qua, qua dentro è rimasta l'orba, che è stata misurata lo stesso giorno, corrisponde a circa 32 centimetri. Poi ho fatto una ricerca e corrisponde a una scarpa numero 48, è abbastanza grande, non è molto comune diciamo. La vernice, molto probabilmente, è una vernice che si utilizza per, una vernice da carrozziere. Ha un'idea di chi possa essere stato? Ma l'idea no, non so chi possa essere stato, però sicuramente sarà stato uno che conosce bene la zona. Perché? Perché si è messo proprio da questo lato, che corrisponde al lato nord della casa. Perché? Perché dall'altro lato, pure è una statina privata, però è controllata dalle camere che sono installate sulla casa del vicino. Mi diceva che lei ha chiesto ai vicini che non hanno visto e né sentito nulla. Sì, sì, ho chiesto ai vicini che non hanno visto niente, anche perché probabilmente, siccome si trattava della notte di Natale, probabilmente stavano in festa. Il gesto non è da trascurare, perché il fatto che è stata utilizzata una vernice rossa, è stata utilizzata con uno spruzzo dall'idea del sangue e questo potrebbe anche significare un avvertimento di qualcosa, penso. Intanto Pietro continua a lavorare alla sua casa. Stamane l'abbiamo trovato su un'impalcatura intento a posare l'intonaco. La casa sarà pronta la prossima primavera, ci ha detto salutandoci.